Una giornata alla Lega del Filo d'Oro per donare un sorriso e non solo. Alessandra, che cosa avete organizzato per il primo di settembre? Sì, il primo di settembre andremo a visitare la struttura nuova inaugurata in marzo ad Osimo e andremo a portare dei dispositivi e dei libri sensoriali che verranno donati agli ospiti della struttura e poi faremo una conferenza dove annunceremo determinati eventi perché la nostra associazione è molto vicina alla Lega del Filo d'Oro e insieme a noi avremo un'associazione dei miti dello sport che appunto sarà presente per dare un segno di solidarietà. E chi saranno questi ospiti d'eccezione? Saranno dei campioni limpionici e delle personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Avremo Valerio Vermiglio, che è il pallavolista, Bruno Mascaregnas, campione di canottaggio, Emanuele Blandamura, campione di pugilato, Antonio Di Natale, che è l'organizzatore degli eventi di miti dello sport, avremo Marco Scimia, che non so se sapete ma è il sosia italiano di Johnny Depp, Oreste Fuga, della NASA, e il mental coach Giovanni Letizia, in collegamento la giornalista Antonella Biscardi dal Brasile. E insieme a queste persone andremo a interagire con gli ospiti della Lega del Filo d'Oro all'interno dei loro laboratori, proprio per dare un contatto e per dimostrare che insieme si può fare tanto e che il bene ripaga sempre.